C'è un lavoro di grande esperienza, grande fattura. Guardi, potrei subito mettere un carrello. Sì, vabbè, senza carrello. Allora usiamo due telecamere, così ci facciamo subito un carrello. Una camera sola, ok. Noi siamo in due, io e il mio collaboratore. Ah, non c'è... Sì, ho capito, però non è che le sto chiedendo tanto. Sì, ma lei cosa pensa? Che qua si lavora così, sempre a gratis, sempre a fare favori. No, ho capito, però si tratta di una partita di eccellenza, cioè, dico, almeno 50 euro me lo vorrà da per fare una ripresa di una partita di calcio. E via. No, no, ho capito, no, sto tranquillo, sì, no, scusi, scusi, però è un periodo un po'... Sì, no, scusi. Va bene, va bene, va bene, va bene. Sì. Ci risentiamo domani. Va bene. Sì. Scusa, ma almeno il catering c'è? No, perfetto. Va bene, arrivederci. Beh? Una ripresa per un domenica prossima, una squadra d'eccellenza. Ah, buono. C'è una lì, gran c'è, buono. Buono, buono. Ma lui? È simpatico, beh. Ma non mi sembra tanto... Ma sta bene? Sì, sì, sì. Sicuro? Sì, sì, sì. L'abbiamo parlato prima, ma spiegate un po', adesso... Stiamo ingranando. Stiamo ingranando. Lo conosci o no? Certo che lo conosco. Come si chiama? Tony. Tony? Vabbè. Vabbè, senti, noi cominciamo un attimo a lavorare, eh? Diciamo a Tony se si può spostare. No, no, senti, facciamo così, lascialo qua dai, poverino. È da tutta mattina che aspetta. Perché ha detto che le ha dato appuntamento a sua figlia. Solo che, senti, sta qua dietro a sua figlia. Cioè, tanto vale che venga lei, no? Cioè, è inutile che stiamo qui ad aspettare. Ma qua, non ho capito niente, Simo. Che stai a dire? Allora, lui sta aspettando sua figlia. Sua figlia però sta qua dietro perché mi ha dato questo. Siccome lui non sa l'indirizzo esatto... Eh, sta qua. Che è? Ecco, allora, tu... Quello piano dei mignoti sta qua. Dai, che marino. Eh? Tu vai lì un attimo e poi torni. Ma che stai a dire, Simo? Dai, sì. Ma è pazzito, sei. Ma magari le trovi senza dover spostarci. Ma è tutto il giorno che aspetta. Magari è un po' frastornato tutto il viaggio dal paese a qui. Dai, fai un attimo, no? Ma Simo, ma che stai a dire, no? È andato a prendere sua figlia, gliela porta subito. Ma non vado da nessuna parte, ma che stai a dire? Grazie, grazie. Ma dimmi te, ma che è oggi, no? Ma che ne so io chi è sua figlia? Pure la bari. Non si preoccupi, Roberto è un affidabile. Comunque arriva. Se tu arrivi sul set, prendi quello che ti danno. Non è che devi pretendere sempre. Se no non lavori mai. No? Vabbè. Dico anch'io. C'è la segreteria. Però non è normale, no? È andato da un quarto d'ora. Scopa? Eh? Scopa, mille lire a partita. Che scopa? No. Non mi scusi, no. Mille lire a partita. Gioca, dove te? Mille lire a partita. Mille lire, scopa. Ah no, ma non ci sono più le lire. Sì. Non ci sono più le lire. Scopa! Come scopa? Mille lire, mille lire. Scopa. Sì. Tocca a te, tocca a te. Scopa! Mille lire, tocca a te. Ma non ci sono più le lire, non ci sono più le lire. Guardi. Scopa! Ti faccio vedere, siamo Europa, Euro. Guardi. Questo è Euro. Grazie, sì, grazie. E uno. Sta dentro, sta dentro che tocca a te. Sta dentro che tocca a te. Mi puoi ridare i soldi, mi favore. Mi puoi ridare i soldi. Scopa! Ma come scopa? E' un canario, avanti, tocca a te, tocca a te. Scopa! Ah, 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 ah! Scopa! Scopa, scopa, scopa! Scopa, scopa! Scopa! Sì, è da boccio, scopa! Ecca là, ecca là, scopa. Scacciare i soldi, mo'. Scacciare i soldi! Non c'è i soldi? No che non ce li ho i soldi ma gli ho detto prima gli ho dato 20 euro Vabbè le pecore? Non ce le ho le pecore dai Non c'è manco le pecore? Vedi i conigli C'è manco i conigli? No non ce li ho Sei strano Sei degli occhi da pazzo che mica mi convincono Stai attento perché ho conosciuto uno come te Stai attento perché io scherzo mica E gioca Vada che mi ho mangiato questa mattina Tocca a te Tocca a te No 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 Si 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 Scopa Eh su questo vuoi starne proprio certo Ma vabbè ma chi è questa? Cine Ma scusa ma dove l'hai presa? Ma ti pare... Cioè ma dove l'hai presa? Ah Simo, era l'unica che pure lei che non vedeva il padre da tanto tempo, va bene? Ma se è stato via mezz'ora mi riporti nella cinese? Oh, eeeh, dico qualcosa. Mi lega a cui zanzo e ci sa. Oh, e che ti pare a te? Ma che, ma non parla italiano, ma come hai fatto? No, no, dici pure qualcosa in italiano. Amore, amore. Senti, vabbè, quindi... Ma vabbè che? Ma che facciamo adesso? Adesso Gin va qua, papà, giusto? Ma no, no, ma che... Ma come no? Guarda che carino che so. Ma come no? Ma Simone, stai sereno stai. Ma poi, non li vedi? So due gocce d'acqua so. E ha lasciato tutta la roba qua. Uguali proprio. Ah. Ma dai, ma sarà la cosa giusta, ma... Oddio, non mi faccio una partita, non sai da quanto. Eh, pure io. Allora. Guardi alla tua va? Eh, vabbè. Oddio, ma ho proprio le mani oggi burrose, c'ho, eh? Sto stanco, c'ho la pressione bassa. Ho lavorato tutto il pomeriggio, adesso. Vai. Vabbè. Mila lì la partita? Eh? Scova! Sì, 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 sì. Mangue! Sì, basta. Amatriciana!